Musica Eleana dunque un sabato gustoso ma anche divertente Sì, è un'iniziativa della Proloco Coarezza della quale io sono presidente, appunto sono Eleana De Galeazzi e questa iniziativa va a sostituire un Coarezza per strada che per diversi decenni ha tenuto banco a Coarezza Purtroppo per vari motivi abbiamo dovuto sospenderla e la sospensione ha dato luogo a delle reinterpretazioni Questa è la prima reinterpretazione dopo gli anni in cui ci siamo fermati e abbiamo pensato a queste tigelle che è un piatto che piace molto anche ai giovani Quindi cerchiamo di unire un po' di essere di collante tra varie generazioni attraverso il cibo Pensiamo di proporre le tigelle anche a partire dalla preparazione, quindi l'impasto, la cottura con i ferri appositi, questi ferri di ghisa che vengono posti sulla fonte di calore A seguire questo aperitivo ci sarà questo spettacolo teatrale sano o malato che proponiamo sperando di riscuotere l'approvazione e il gusto di tutti Diciamo anche che con il passare auspichiamo della pandemia stanno tornando un po' queste iniziative con ancora più entusiasmo perché c'è tanta voglia di ritrovarsi Certo, c'è tanta voglia di ritrovarci anche durante quest'estate noi abbiamo avuto modo di trovarci con i nostri concittadini, con persone che venivano da fuori dal comune Per esempio con una paella che ha riscosso un certo successo e quindi speriamo che nel prossimo futuro ci sia un... possiamo riempire la nostra vita di queste belle iniziative che ci fanno stare proprio vicino agli altri Per l'11 settembre insomma Lombardo ha in programma un evento molto interessante con SD nazionale, una pedalata che mette insieme aggregazione, solidarietà, naturalmente sport ma anche turismo Sì, senza altro, dunque noi lo facciamo in nostra rando, è la sesta edizione che la facciamo e più che altro la facciamo per solidarietà Quest'anno avremo quelli del Parkinson che parteciperanno con noi e niente, un percorso di randonè con partenza libera dalle 8 alle 9 I percorsi sono diciamo due, uno da 100 km corto e uno da 140 km più lungo con un dislivello di 1600 metri Non ci sono salite impegnative però come si dice nel gergo ciclistico è tutto un mangia e bevi e quindi è abbastanza impegnativo Oltretutto però la nostra idea è quella di fare una cicloturistica non una competizione Quindi i ciclisti dovranno attenersi a tutto il codice della strada e anche a una velocità piuttosto blanda Non a tutta però sappiamo che di solito i ciclisti quando indossano il caschetto poi dopo si tira il collo fino alla fine E diciamo il percorso si svolge un po' tra le nostre parte finale diciamo sul lago di Comabbio E poi invece la parte iniziale andiamo in Piemonte verso la Val Piana e poi si scende verso Boca Facciamo il santuario di Boca e poi si torna dalle vigne e si ritorna a Somma Senta quanti partecipanti avete? Allora noi contiamo di avere almeno un centinaio perché è sempre stata un po' sfortunata La nostra rando per il tempo quindi se ne avremo un cento partecipanti siamo già contenti Andiamo invece alla componente più appunto solidale, la finalità dell'iniziativa? Noi ogni anno destiniamo parte del ricavato a chi sta peggio di noi Quest'anno abbiamo deciso di destinare parte del ricavato agli amici del Parkinson Athletic Tra l'altro parteciperanno come ospiti 15 atleti affetti da questa patologia e pedaleranno con noi Hanno già pedalato con noi in edizioni precedenti e quindi portano avanti veramente una bella dimostrazione di forza Non dimentichiamo però Anfas di Somma Lombardo che fa sempre parte del ricavato Lo destiniamo sempre anche a loro Quest'anno acquisteremo da loro i premi per le prime tre squadre più numerose E naturalmente un ringraziamento particolare va al Comune di Somma Che ci permette di realizzare tutto questo ormai da sei anni a questa parte Grazie 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 a tutti